Sono Patrizia Maneghilella, nata a Merate, 15 maggio nel 2010. Questo video viene registrato per il concorso musicale nazionale Villa Oliva 2020. Appartengo alla categoria B. Ora vi presento il mio programma. Suonerò Invenzione numero 14 di Bach e Predio di Fuga numero 13, in Fadi Sos Maggiore, del primo libro del clave cembalo ben temperato di Bach, e Fantasia sul minore di Rasmagnoff. Grazie, buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.